now where's my cat precious cat where you at kiss me on my faithless lips tie me down go blitz baby precious cat where you at have on what it takes for this take a shot don't miss baby go ahead di Alex Kirk prova ad andarsene Noles e lui a creare il tiro per Antonuti parlavamo di un giocatore che è sempre molto concreto eccolo qui Michele Antonuti now where's my jacket where's my jacket my jacket now where's my jacket where's my jacket now where's my jacket precious cat where you at kiss me on my faithless lips tie me down go blitz baby precious cat where you at Antonuti riceve ora palla da Moore poi va a prendersi questa conclusione Michele Antonuti a segno da tre punti e ci sarà addirittura il tiro libero per un gioco potenziale da quattro punti che canestro now where's my jacket where's my jacket here my jacket care now where's my jacket wo